Ciao lettrice e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e se tutto va come deve andare da oggi per una settimana vedrete un video al giorno sul mio canale ovviamente questo è il piano, sappiamo bene che però io sono la regina del fallimento dei piani ma comunque veniamo a noi perché oggi vi volevo parlare di una nuova uscita di Netflix che io ho appena visto e che penso tutti attendevamo abbastanza insomma chi aveva qualche interesse sul tema non può non aver sentito parlare di The Chilling Adventures of Sabrina ovvero il reboot di Sabrina vita da strega sì è una serie che è una serie animata che chi è cresciuto negli anni 90 non può non avere visto in italiano è stato tradotto come le terrificanti avventure di Sabrina e quale ingenuità premessa io non sapevo, devo dire mi sono informata molto poco su questo riguardo perché per me i reboot sono sempre qualcosa di un po' nope ma ho scoperto che in realtà l'ispirazione non era assolutamente la stessa del telefilm ma di una serie a fumetti dal quale anche la serie originale diciamo anni 90 era stata tratta che però era stata davvero molto sconvolta mentre la serie a fumetti aveva un'ambientazione molto più simile a quella che noi vediamo nella serie tv premetto che però non ho ovviamente letto la serie quindi io mi posso rifare solo e unicamente alle cose che conosco quindi quello che ho appena visto su Netflix e la serie che conoscevo pur prendendone determinate distanze ma in alcune cose mi sembra che sia giusto e doveroso anche fare alcuni paragoni comunque vi spiegherò perché per me è un grande nope un no abbastanza gigantesco questa serie racconta la storia di Sabrina che è una giovane strega ma anzi metà strega metà umana perché il padre era uno stregone mentre la madre invece era un'umana che al compimento dei suoi 16 anni si trova di fronte a una scelta diventare e passare direttamente al mondo delle streghe attraversare il rito che viene chiamato l'oscuro battesimo oppure rimanere umana e quindi continuare la sua vita da umana le sue zie che si occupano di lei dopo la morte dei figli sono allo stesso tempo un po' in conflitto su questa sua decisione perché la zia Hilda da un lato comprende i timori di Sabrina nel fare questo rituale proprio perché così dovrà distanziarsi del tutto dal mondo umana e invece la zia Zelda preme tantissimo affinché Sabrina completi il rituale ed effettivamente entri a pieno titolo nel mondo magico noi seguiamo le avventure di Sabrina in questo proprio momento cruciale della sua vita nella quale si trova un po' divisa tra entrambi i mondi da una parte ci sono le sue zie, la sua famiglia e tutto il mondo della congrega magica al quale lei e la sua famiglia appartengono dall'altro c'è il mondo invece umano quello dove ci sono le sue amicizie, c'è la scuola, c'è la vita quotidiana e c'è anche ovviamente Harvey che è il suo fidanzato quindi è molto spaventata da questa decisione proprio perché è molto drastica lei per entrare in un mondo quindi per entrare a pieno titolo a fare parte della congrega e studiare invece approfondire tutto il mondo che invece ha a che fare con la magia deve abbandonare l'universo umano e per lei è uno stacco molto doloroso questo è il contesto nel quale noi ci inseriamo sotto c'è qualcosa di più ovvero iniziano a succedere cose inaspettate, spaventose iniziano ad esserci troppe coincidenze che remano contro Sabrina e la sua famiglia e anzi dovremo un po' scoprire che cosa sta accadendo nella cittadina di Greenville allora prima di addentrarmi nelle problematiche vi dico brevemente che cosa mi è invece piaciuto io trovo che pur distanziandosi tantissimo dalla serie a cui ero abituata quindi per me è stato un po' uno shock ma da un lato un piacevole shock perché è un reboot di una serie che secondo me cioè più di quello non poteva dare come di quello che abbiamo già visto quando eravamo piccoli non poteva dare, sarebbe stato strano non aveva neanche minimamente senso o piacevolmente abbracciato invece questo nuovo mondo pur non conoscendo assolutamente nulla secondo me è stato piacevole è stato esteticamente molto bello perché comunque è un tipo di ambientazione che ci ricorda tantissime cose dall'immaginario che possiamo avere della stregoneria, di Salem, di quel tipo di magia quei colori che emergono da toni molto scuri e sono pochi e selezionatissimi emerge sempre il rosso, il verde e a volte l'arancione ma non sempre e esteticamente è una scelta che a me piace moltissimo fotograficamente rende molto bene secondo me dal punto di vista cinematografico hanno fatto delle scelte abbastanza giuste ci sono solo un paio di cose che non capisco tipo i fuochi un po' a caso e le inquadrature non sempre azzeccatissime anche il rapporto che Sabrina ha con Harvey per me è molto corretto è un rapporto dove sì, Harvey non è una cima non è sicuramente il personaggio di spicco di tutta la serie ma il loro rapporto non è fastidioso è un rapporto abbastanza giusto e corretto e equilibrato anche se ovviamente il controllo in questo caso ce l'ha totalmente Sabrina che non si svela e non dice la verità sulla sua condizione eccetera però ho trovato Harvey un personaggio molto di supporto che incoraggia Sabrina nel combattere le proprie disavventure e nel combattere anche le cose che trova ingiuste e poi ci arriviamo a questo aspetto dopo altra cosa che mi è piaciuta ma questo è proprio un gusto personale il ritratto che fa Sabrina della magia ovvero in questo caso la magia viene vista come qualcosa di molto scuro cioè si parla anche di Satana e del Signor Oscuro io mi stavo commuovendo perché non pensavo ci saremmo mai spinti così oltre in una teen drama fondamentalmente in una serie pensata per un pubblico così giovane pensavo che il riferimento sarebbe stato molto più velato invece per la prima volta io ho visto rappresentato questo mondo molto scuro anche se in chiave più ironica eccetera eccetera in una serie tv del genere sono veramente rimasta stupita e ho apprezzato tantissimo non c'è stata quella vena troppo buonista nel vedere la magia soprattutto legata a quel tipo di contesto e anzi si ragiona molto su come la magia e come questo signore oscuro che concede la magia nasconda sempre qualcosa anche per chi è un adepto per chi si rivolge a lui e soprattutto per la sirpe diciamo magica insomma mi ha piacevolmente stupita non credevo sarebbe mai avvenuto in una serie tv per ragazzi o comunque una serie tv molto popolare come magari diventerà Sabrina quindi felicissima di questa cosa detto ciò però per me più o meno le cose positive si esauriscono qui perché invece forse è più sensato concentrarsi sulle questioni più disastrose Sabrina è un personaggio che secondo me viene ritratto dalla protagonista in maniera abbastanza brillante che tra l'altro la protagonista è la figlia di Don Draper in Mad Men quindi punti l'ho riconosciuta subito non avevo molto indagato prima dell'uscita di questa serie devo esservi sincera detto ciò però secondo me mentre per quasi tutte le emozioni Sabrina viene resa benissimo da Kiernan Shipka che è l'attrice che la interpreta ci sono delle cose che io non mi sono riuscita proprio a spiegare ovvero le emozioni invece quelle dove dovrebbe essere un po' più coinvolta quindi come la paura come il terrore come anche l'affrontare i suoi nemici come affrontare invece tutto quello che ha a che fare con la malvagità e il lato oscuro i conflitti familiari cioè è molto piatta cioè in quelle situazioni lì ha lo stesso coinvolgimento che ho io quando seduta al ristorante sono a tavola e non mi portano il pane cioè sono infastidita però alla fine anche sti cazzi cioè è quello che io non riuscivo a capire di questo personaggio cioè nei momenti dove dovrebbe essere un po' più espressiva dove dovrebbe essere più coinvolta emotivamente secondo me risulta molto molto piatta da un lato si non arriva mai a quelle gesta disperate che si vedono spesso nei teen drama che io non sopporto quelle là tutto tragico tutto un danno vero dall'altro però neanche mi dà quel po' di emozioni cioè non si espone mai troppo e questo secondo me stona un po' col personaggio di Sabrina in realtà Sabrina è un personaggio che secondo me viene costruito abbastanza bene dentro la storia potevo metterlo nei lati positivi ma sappia vabbè però è un po' fine alla sua storia cioè deve raccontare la trama mi sembra un po' che questo personaggio sia funzionale alla trama e un po' meno invece alla storia stessa e a quello che sta vivendo alla sua emozionalità non so se ha senso per me lo ha spero che insomma per voi lo abbia lo stesso poi invece una cosa che io proprio non ho sopportato perché mi ha distratto tutto il tempo è che io non ho capito il tono di tutta la serie a tratti può essere paragonato a qualcosa di molto scuro un thriller ma anche a tratti horror con tantissimissimissime virgolette perché ricorda un po' il mondo di Penny Dreadful ci sono state alcune scene che invece mi ricordavano Sleepy Hollow questo mi è piaciuto questa parte qua però poi veniva alternato continuamente a modalità molto teen quindi a teen drama che io purtroppo per gusto personale non ho mai retto non ho mai sopportato anche se per dire per alcune versi poteva essere assimilabile a Riverdale e secondo me la prima stagione di Riverdale è ottima è buona no ottima è esagerato buona o a Pretty Little Liars e compagnia Teen Wolf eccetera che a me però non piacciono e non sono mai riuscita ad andare più di tanto in là con la serie perché proprio mi stufava dopo poco tempo volendo questi due mondi potrebbero anche convivere l'uno con l'altro e poi ci sono stati invece altri toni ancora che invece riportavano alla comicità magari molto tipici della serie di Sabrina Vita da strega degli anni 90 e tutte queste anime che secondo me hanno convissuto molto bene purtroppo solo in un telefilm che noi non possiamo dimenticare perché forse è il telefilm più iconico della generazione che ha anche visto Sabrina Vita da strega ovvero Buffy the Vampire Slayer la mazza vampiri perché Buffy riusciva ad alternare momenti molto cupi momenti un po' teen perché comunque si ambientava in una scuola c'era una ragazza molto giovane eccetera a momenti esilaranti perché Buffy è un aspetto che viene molto sottostimato a una serie di battute ironiche incredibile momenti gag bellissimi che si rifanno a tante cose ma è sempre piaciuto molto questo aspetto ma non scadeva mai nell'alternanza un po' spropositata di questi momenti cioè aveva i momenti oscuri momenti di azione cupezze eccetera che non venivano mai intervallati a sproposito con momenti comici eppure anche i momenti teen si contestualizzavano bene in una sfera magari più emotiva legata alla questione amorosa legata magari anche all'ambientazione di alcune scene ma non interferivano mai con i toni non riuscivano mai ad abbassarli invece in questa serie questa alternanza di toni è molto confusionaria è molto casuale non c'è mai un momento che persiste nel tenere alto un tono quindi parlo del momento di suspense nel momento di tensione nel momento cupo e poi magari viene inframezzato da una battuta terrificante tipica del teen drama oppure c'è una battuta che dovrebbe fare ridere e non far ridere questa cosa a me ha distratto continuamente e mi ha infastidita tantissimo perché non vedevo una realizzazione di un certo livello vedevo più idee confuse che altro altro aspetto imperdonabile di questa storia è un po' dato anche dal tono che vi dicevo prima e che si riflette sulle tematiche secondo me la trama di fondo di Sabrina è molto valida cioè la trama e la sottotrama si innestano bene e quindi ci potrebbe essere uno sviluppo molto interessante però ogni puntata sembra dedicata a un tema extra quindi si parla di bullismo si parla di sessismo si parla di rapporti si parla di vendetta insomma ci sono delle trame un po' più ampie che vengono un po' sviluppate nell'arco della puntata i problemi sono due ovvero il primo è che questo distoglie l'attenzione dalla trama principale cioè viene inserita nel contesto in cui si sta sviluppando in quel momento in quella puntata la trama il macrotema per esempio nei primi si parlerà di bullismo e di sessismo e di omofobia e in questo caso l'attenzione viene molto distorta cioè è proprio un incastro un po' difficile da contestualizzare in questo caso soprattutto con la storia principale io da un lato ho apprezzato il voler parlare di queste cose però è vero anche che si esauriscono nell'arco di una puntata cioè si parla di bullismo viene ripreso un'altra volta in un'altra puntata ma poi si esaurisce lì poi il tema diventa qualcos'altro si parla di sessismo e di omofobia vengono sviluppati in una puntata e poi muoiono lì quindi c'è proprio al di là del distrarre dalla trama principale perché non sono così ben contestualizzate il problema ulteriore è che proprio poi non vengono riprese cioè non hanno un percorso all'interno della storia non si attaccano ferocemente a quella che è la trama o la sottotrama perché sono due le trame di questa serie secondo me oltre alle storie e alle vicende personali però è questo che forse è stato cioè il voler parlare di queste cose che io trovo sempre giusto cioè mi piace quando vengono esplorate soprattutto così cioè facendo vedere la quotidianità di certi atteggiamenti certi però in questo caso vengono un po' buttate lì cioè sono un po' buttate lì con la scena un po' estremizzata in modo da renderla molto palese e poi è finita e questo però mi porta anche a parlarvi dei personaggi cioè i personaggi sono secondo me un altro problema non tutti ma alcuni sicuramente il primo ad esempio che mi ha dato fastidio come poche cose al mondo è la rappresentazione dell'amica lesbica di Sabrina che in questo momento non mi ricordo il nome però perdonatemi però in pratica noi di lei conosciamo solo questa caratteristica lei ha una problematica viene bullizzata in quanto lesbica in quanto diversa ma la sua unica caratteristica è essere lesbica io ho tante amiche lesbiche e ve lo giuro che non sono solo lesbiche non è che parlano del proprio orientamento sessuale non parlano solamente del proprio essere lesbiche giuro che essere lesbiche vuol dire essere tante altre cose vuol dire essere come tutti gli altri ma avere un orientamento sessuale diverso e questa cosa mi ha infastidito proprio non l'ho sopportata anche perché il problema è gestito solo nella sua problematica cioè la sua storia è la sua problematica l'essere bullizzato in quanto diverso con un orientamento sessuale diverso e questo per me è stato proprio buttato lì cioè dovevamo mettere dovevamo mettere la quota di diversità l'abbiamo messa abbiamo sviluppato la sua storia fine no detto ciò invece l'altra cosa che riguarda i personaggi secondo me è la problematica più grande è proprio che sinceramente li ho trovati molto achiettistici in generale soprattutto i cattivi dei quali vi parlo fra un attimo ma soprattutto nei dialoghi cioè i dialoghi di tutti i personaggi sono un punto debolissimo di tutta la serie sono davvero troppo telefonati sono troppo prevedibili sono molto disneyani nel loro essere ti dico questa cosa insospettabile ma poi la mia mimica facciale dice tutt'altro cioè è una cosa fastidiosissima e avviene soprattutto con le zie di Sabrina che è evidente che stanno nascondendo qualcosa dal primo Sabrina passa un po' per finta tonta per non vederle e un po' tutti questi hanno degli atteggiamenti troppo esagerati espressivi per non venire colti cioè lo cogli subito che c'è un problema di fondo c'è qualcosa di nascosto magari non sai proprio cosa ma se io fossi Sabrina mancano quattro giorni al mio scuro battesimo e sono così indecisa così confusa e sento persone che mi spingono e si si vede che sono me mi metterei più dubbi quantomeno cioè non dico che o idem anche Harvey in questo non chiede mai quel più di quello che chiede io capisco che sia magari un po' rappresentato come il semplicino meglio che nella serie degli anni 90 dove era proprio brainless ed encefalogramma piatto ma in questo caso non chiede mai quel pochino di più anzi gli dice nel nostro rapporto dobbiamo essere sinceri tu puoi dirmi tutto quello che vuoi diciamoci le cose perché solo così il nostro rapporto funzionerà veramente cringy il peggio però secondo me sono proprio i cattivi cioè quelli che rappresentano i personaggi negativi sono estremamente macchiettistici sono delle caricature di se stessi cioè non è credibile che Sabrina non si accorga di un personaggio del quale non vi parlo perché sennò è spoiler però le parla mettendole in bocca parole mettendole in bocca delle frasi per arrivare dove vuole arrivare per metterla in tana la sostiene in tutto e accondiscendete come fai a non capire e come fai a vedere anche persone possedute e a non avere una reazione cioè avere la reazione puoi rivederlo magari poco dopo e non avere una reazione verso qualcuno che è stato posseduto e che quindi è plateale che non sia proprio dalla parte più giusta no? e secondo me in questo si nota la provenienza da un fumetto ci può stare secondo me che nel fumetto vengano resi così perché non hai l'espressività facciale che puoi avere o comunque è un mezzo diverso trasportarlo su schermo trasportarlo su pellicola non ha la stessa resa secondo me è una resa troppo caricaturale che o viene accompagnata da una scelta come magari è stato per The Spirit per Sin City dove tutto è estremizzato tutto è fumettistico oppure è un po' debole cioè è un po' ridicolo non rende gracchie e infatti forse è questo che mi porta ad essere molto indecisa sia sul tono che sui personaggi che sui dialoghi perché da un lato non si staccano troppo dal mezzo di origine quindi dal fumetto e dall'altro però nemmeno riescono a rendere a pieno su schermo quindi avrebbero avuto bisogno di un adattamento un po' più forte fondamentalmente queste sono le problematiche che mi hanno dato proprio più fastidio di Sabrina vita da streghe che secondo me lo rendono un prodotto un po' meh cioè ok carino ho visto questa ambientazione i riti satanici mi è piaciuto fine poi altra cosa che questo è un appunto mio perché io sono fissata con queste cose la colonna sonora quante cose si potevano fare con questa colonna sonora lo sa solo satana e invece hanno scelto a parte brani molto banali molto nazionalpopolari poco ricercati soprattutto per l'ambientazione la musica poteva davvero sostenere alcuni momenti in maniera incredibile l'abbiamo visto con tante serie netflix che hanno avvicinato un grande pubblico anche a pezzi molto meno conosciuti ma che ci hanno appassionati io sono fissata con la musica per me soprattutto nella cinematografia deve avere uno spazio soprattutto in questo tipo di serie soprattutto in questo tipo di prodotti non avere messo una buona colonna sonora per me è stato mozzare le gambe a un prodotto che poteva essere quanto meno salvato dalla colonna sonora pensate a stranger things se ci si ragiona veramente tanto bene forse non è questo prodotto così eccellente ma la colonna sonora sostiene benissimo l'emotività della serie qua non ci siamo proprio neanche impegnate ne abbiamo dato neanche 10 euro a quello che ha fatto la colonna sonora porca miseria proprio mi fa arrabbiare poi in conclusione altra cosa che mi ha un po' infastidito è questo immaginario che io non ho capito del tutto cioè so che nel fumetto si parla di anni 60 e secondo me se si fossero ottenuti a quella dimensione super 60s un po' alla pleasantville a me sarebbe piaciuto molto invece nella serie secondo me c'è grande confusione ci sono un sacco di rimandi agli anni 80 un po' casuali un sacco di cose anni 90 poi ci sono i laptop c'è la tecnologia c'è un'ambientazione che potrebbe essere quella odierna no? e questo mescolare un po' a caso questo citazionismo di cose random da epoche diverse che però non hanno un valore all'interno della storia cioè a me non piace cioè quando citi qualcosa quando ti rifai a un periodo passato è perché da un lato tu hai bisogno di sfruttare quegli elementi hai bisogno di ricordare alcune cose in questo caso no cioè in questo caso non ce ne frega niente non ho capito cioè perché si vestono così perché ragionano così perché hanno quel tipo di è un po' molto irrealistico non che in un ambiente di stregoneria non sia contemplabile ma o lo esageri o quel via di mezzo un po' fuori tempo massimo fuori luogo non ha senso anche i riferimenti che ci sono sono un po' fine a se stessi sono solo a livello di estetica e a me riprendere questioni passate solo a livello di estetica per confezionare un prodotto un po' ibrido che poi non ha neanche tutta questa grande riuscita estetica non mi fa impazzire sono molto sincera quindi questo è un problema mio alzo le mani io ho un sacco di limiti dal punto di vista cinematografico sono molto così mi aspettavo di più mi aspettavo o qualcosa di un po' più oscuro o qualcosa di più compatto dal punto di vista della scrittura dove questa resa fosse stata un po' più fumetto come è stato magari un'ambientazione alla Dirk Gently secondo me quello era un modo vabbè c'è Douglas Adam dietro quindi stiamo parlando di altre cose ovviamente però Dirk Gently aveva quell'aspetto anche fumettistico anche se non proviene da un fumetto proviene da un romanzo però ciò aveva quell'ambientazione quel modo di esprimersi e quell'espressività tipica magari più di un ambiente fumettistico in questo caso no quell'assurdità manca quell'estremizzazione manca questa alternanza di toni non è così forte così compatta soprattutto data dai dialoghi cioè i dialoghi sono una roba imbarazzante e quindi niente come avrete capito Sabrina non mi è piaciuto dateci un'occhiata perché tanto capiterà sicuramente anche tanti di voi di vederlo su Netflix e fatemi poi sapere e poi se le ambulanze hanno finito di passare fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti perché sono curiosa di sapere anche le vostre impressioni niente io direi che per oggi è tutto come solito io vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina se volete essere sempre aggiornati sui miei video e giù nell'info box trovate sia i miei link di affiliazione Amazon per i vostri acquisti sia anche il link a Ko-fi se volete offrirmi un caffè simbolico e aiutarmi a mandare avanti il canale direi che per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao